Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi 14 febbraio. Vediamo subito che il tema che a me diverte di più, quella per cui ieri ho detto quella capronata, cioè dicendo che Forostad, come cavolo si chiama, il leader liberale democratico del Parlamento europeo, era un parlamentare olandese, insomma la capronata che ovviamente era belga come sanno tutti. Quindi questo sedicente liberale, che ieri ha detto che era un burattino conte, oggi è stato trattato da due rubrichisti importanti, Massimo Gramellini sul Corriere della Sera e Mattia Feltri sulla stampa. Per la prima volta forse in vita mia sono più d'accordo con quello che dice Gramellini rispetto a quello che dice il Feltrino, perché Gramellini dice ha lodato gli italiani del passato per meglio insolentire quelli del presente. Questo è stato l'argomento retorico che giustamente Gramellini ha svelato, quanto mi piace l'Italia, quanto mi piace l'Abonino, quanto siete stati europeisti, De Gasperi eccetera e oggi siete dei scialtroni. Insomma loda il passato per denigrare meglio il presente e far finta di non essere quello che è, cioè un razzista nei confronti dell'Italia. Feltrino invece dice non avete sentito bene quello che ha detto l'euro parlamentare belga perché in realtà è un grande atto d'amore dell'Italia, credo che sia più vero quello che dice Gramellini. Intervista a Repubblica di Conte, una pagina intera, sforzi inumani, si vedevano le gocce di sudore di Tito per cercare di tirar fuori una notizia che non è arrivata. Questa Europa è al canto del cigno, dice Conte. E' uno che veramente, io cerco di intervistarlo, spero che venga prima o poi a Quarta Repubblica, ma insomma io penso che sarà veramente difficile tirar fuori da Conte nonostante tutti i tentativi che si possono fare qualche cosa. Nel frattempo il ministro degli esteri francese, audite e audite, racconta al Corriere della Sera un pezzo molto più interessante rispetto a quello di Conte perché un po' di umori francesi nei confronti della visita di Di Maio ai gilet gialli ci sono in questa intervista, però la cosa vera che dice è che presto tornerà l'ambasciatore a Palazzo Farnese. Gli italiani e soprattutto i romani ne sono felicissimi. Finalmente torna l'ambasciatore francese, in quest'epoca digitale, insomma dei tweet, di FaceTime, di Skype eccetera, immaginiamo quanto sia importante avere un ambasciatore in sede. A parte le battute, il segno è importante, l'efficacia poi di questa presenza diplomatica sapete bene che conta pochissimo. Nuova struttura del Movimento 5 Stelle dopo la sconfitta che è avvenuta in Abruzzo, è quello che dicono tutti quanti i giornali, Di Maio dopo due giorni di silenzio ha detto, secondo le indiscrizioni di tutti i giornali e anche le dichiarazioni ufficiali, che ci sarà un comitato centrale, una sorta di segreteria e possibilmente, e l'altra grande novità è che ci sarà la possibilità di candidarsi più di due volte, cosa che nel passato era un mantra, tant'è che fecero fuori, mi sembra, il sindaco di Pomezia, non mi ricordo, forse non era Pomezia, comunque una città del Lazio, perché voleva candidarsi due volte, tre volte, anche se aveva fatto un primo mezzo mandato, un secondo mandato intero, quindi voleva fare il terzo mandato e non gliel'hanno permesso. Oggi questa regola, almeno a livello locale, viene cancellata, che è una cosa importantissima e forse è il, come possiamo dire, prodromica, che brutto termine, è l'inizio della fine di un altro dei capisaldi del Movimento 5 Stelle, oltre all'indagato, inquisito, avvisato di garanzia, tutte quelle minchiate là che ci raccontarono per anni, c'è la questione del fatto che il doppio mandato si finisce di fare politica, questo può valere per Di Maio, come per tutti quanti, purtroppo, alcuni dei parlamentari peggiori del Movimento 5 Stelle, quelli della prima ondata, che potrebbero ricandidarsi. La Lombardi, oggi, che è una della prima ora, ve la ricorderete, capogruppa con Crimi, dice che Di Maio, in un'intervista, mi sembra messaggero, non può fare il capo politico e il vicepremere, un po' come ai tempi di Craxi e di De Mita. L'altra grande questione è la TAV, oggi è la giornata della contro, analisi costi-benefici, io vi invito sempre a prendere queste analisi costi-benefici con il beneficio dell'inventario, oggi quelli che vogliono la TAV, come il sottoscritto, utilizzano uno strumento sbagliato, come vedete sui giornali, e c'è che la TAV porterebbe a benefici di 400 milioni, e non perché 800, e non perché un miliardo e mezzo, cioè è tutto talmente ridicolo che una domanda fatta ai due commissari dal Fatto, oggi Ponte e l'amichetto, che sono stati intervistati dal Fatto, chissà perché si mettono insieme Bibi o Bibo, c'è i Ponti, intervista Ponti, no, i due commissari che ieri sono andati in audizione vengono tutti e due intervistati dal Fatto, uno risponde e poi l'altro risponde, come se potessero avere risposte diverse, che sono allineati da anni su tutto, beh, insomma, dice, siete manovrati politicamente, ma se un ministro ci chiede di fare quello che proponiamo da 20 anni, questa è la risposta, cioè il ministro Toninelli ha chiesto loro di fare ciò che propongono da 20 anni, cioè bocciare con un'analisi costi-benefici la Tav, e finalmente l'hanno fatto. Sono manovrati politicamente? No, è Toninelli che è manovrato politicamente da questi Ponti e Compagnia Cantante, del tutto evidente. Sulla stampa ci dicono che l'Europa, esagerati, addirittura ci potrebbero escludere da qualsiasi programma finanziato dalla UE per i prossimi 50 anni, se facciamo casino sulla Tav, di cui dovremmo avere dei finanziamenti pubblici, e racconta, mi sembra molto più serio, molto più efficace, invece i quattro progetti che quei geni del Movimento 5 Stelle hanno bloccato, tra cui quello di Sassuolo e Campo Galliano, di cui sono fissato, è una zona che vive, diciamo, di industria, di ceramica, di piastrelle, che è stata raccontata come un'eccellenza italiana, che ancora viaggia sulle strade, diciamo, di campagna e che ha bisogno di una bretella che non fanno questi cazzoni del Movimento 5 Stelle. Vale dieci volte, semmai, tutte le storie che abbiamo raccontato, i ponti, i ponti inteso come commissari, che non vogliono assolutamente che in questo paese si faccia. L'altra cosa straordinaria è che siete manovrati, è l'altra cosa che loro dicono che sono stati, come siamo, diciamo, bloccati dalle lobby ferroviarie, sì, può anche essere che ci siano delle lobby ferroviarie, non lo metto in dubbio che ci siano delle lobby ferroviarie, come di tutte le grandi aziende, ci sono le lobby dei giornalisti, ci sono quelle ferroviarie, ma io chiedo a questi due geni che si mandano le telefonate e le email, perché Ponti si manda le email con l'amministratore delegato delle autostrade, l'ex amministratore delegato delle autostrade, ma le lobby delle autostrade non ci sono? Le lobby dell'auto non ci sono? Le lobby della benzina non ci sono? No, no, perché, insomma, sembra che ci siano soltanto le lobby ferroviarie, io sono molto vicino alle lobby, diciamo, del petrolio, lobby delle autostrade, le lobby delle auto, io andrei solo in auto, me ne strabatto delle ferrovie, ma chiedo, cari amici che fate, no, quelli che escono dal pero, ponti, poi già uno che si mette, avete vestito come si... Vabbè, lasciamo perdere. Ponti, c'è proprio la faccia di Ponti, no? C'è la faccia di Ponti, del contafagioli, come si è definito lui, per carità. Casino ci sarà questa sera, si vede dai giornali sulle autonomie regionali, basta vedere i due giornali, diciamo, più iconici di opposizione e governo. Quello di governo dice oggi secessione dei ricchi, ed è il titolo del fatto quotidiano. Il giornale, che è un giornale di opposizione, dice il nord si tiene i soldi. E cosa sta a significare questa differenza di titoli? Che il nord è leghista, che il giornale conosce, accarezza, insomma è d'accordo sulla maggiore autonomia. Il giornale, fatto, grillozzo, che appoggia l'anima grillozza di questo governo, insomma sa che ci sono dei problemi, appoggia la Lezzi, capito? La Lezzi, il fatto è il giornale della Lezzi, vi ho detto tutto. E tra l'altra cosa è straordinario che su questo si mettono insieme Landini e De Luca, perché c'è la grande retorica, toglieranno i soldi al sud, non tolgono neanche un euro al sud, danno competenze al nord e con quelle competenze e al sud e con quelle competenze gli danno dei soldi, e l'altra cosa fondamentale è mettere hanno i costi standard, cioè una siringa deve costare a Reggio Calabria come a Milano lo stesso prezzo, non ci vuole anche qui Babbo Natale per stabilirlo, o Cottarelli, basta una norma di buonsenso. E tra l'altro questi costi standard non sono fatti in maniera rivoluzionaria, che sarebbe una siringa al nord costa 3 euro e al sud deve costare 3. No, si media il costo standard per il costo storico, cioè se quella siringa al sud l'è pagata sempre 10 euro, prima di arrivare a 3 ci metti un po', ciò se avete capito questo percorso. Quindi secondo me si va anche light sul fatto che i costi standard dovrebbero esserci. Ma la Lezzi in Sardegna oggi te la saluto, ecco brava François, salutami la Lezzi. E' fantastico, probabilmente hanno ascoltato la filosofa che insegna filosofia, intervistata ieri dal fatto, sono stati scarcerati gli 11 anarchici che hanno messo a ferrofuoco Torino per devastazione, i poliziotti sono arrabbiati, da garantista devo dirvi che in un paese come il nostro bisogna anche accettare il fatto che se 11 incensurati vengono presi sbattuti in carcere per 3 giorni, poi prima del processo è giusto che non stiano in carcere, a meno che non possano reiterare il reato, cosa che per gli anarchici e soprattutto quelli di Torino è molto probabile. Ma saranno valutazioni del giudice, la valutazione che faccio io è che se uno distrugge la città e mette a ferrofuoco una città come hanno fatto gli anarchici in Torino, in galera devono stare un mese, due mesi, sei mesi, un anno. Quello che prevede il codice non è che me ne frega molto, ma non si può distruggere una città e far finta di nulla. Ops, perché ci hanno sgomberato il centro sociale. No, non me ne fotte assolutamente nulla. Chiaro? Se avessi io l'auto distrutta da loro e non pagata dall'assicurazione, oggi stare qua a urlare. Urlo, ma con garbo. L'ultima cosa straordinaria oggi del messaggero, lo sguppone del messaggero. Di Maio si sarebbe visto in gran segreto con il segretario di Stato Vaticano Parolin e di che cosa hanno parlato questi due? Della chiusura delle domeniche. Cioè come ridurre ancora un po' il pillo in questo paese che andrà male. Se fanno questo saremo ancora più nella merda di come siamo da un punto di vista economico. Complimenti alle scelte geniali del Movimento 5 Stelle che prendono la Chiesa Cattolica e la utilizzano nelle sue declinazioni più arcaiche. Mettiamola così. Cioè la chiusura della domenica dei supermercati serve a nulla. Ultima cosa che vi segnalo è l'intervista a questo Palermo, che è l'amministratore galuto della Cassa Depositi e Prestiti, che ci racconta che aiuteranno 6.000 in piccole e medie imprese. Mi viene da ridere perché è stato già nominato Palermo dal Movimento 5 Stelle, quindi stesse calmo, tanto qualche anno sta lì, non c'è bisogno di scrivere cose che fra un anno vedremo che sono ridicole, ridicole. Voglio vedere come se all'erano la Cassa Depositi e Prestiti, i nostri soldi dei risparmiatori pastali, vanno a finire secondo voi nell'equity delle piccole e medie imprese? Beh spero proprio di no perché sarebbe una delle attività più rischiose del mondo. E che cosa voglia dire esattamente questa cosa? Soltanto uno che non fa le domande probabilmente non lo capisce. Io non faccio domande, non voglio neanche capire, ma mi sembra una grande pubblicità elettorale che si è fatto il capo della CDP. Qualcuno mi chiama che non sa che io a quest'ora sono in diretta, adesso metto giù. L'ultima cosa è la follia all'Italia. La follia all'Italia la raccontano tutti quanti i giornali. Voi ditemi se non è peggio della zuppa di porro. All'Italia non viene, nonostante i commissiari, gestita sufficientemente bene, continua a perdere soldi ogni anno, vogliono fare gli esuberi anche questa volta. Allora che cosa fanno? Prima la dicono se la compra la ferrovia dello Stato facendo una roba che non era mai successa, e cioè mettere treno e ferrovie, che tra l'altro sulla tratta principale del treno e delle ferrovie, cioè la Milano-Roma, sono in competizione. Seconda cosa, non contenti mettono un non identificato, due non identificate società pubbliche gli danno un altro 15%, quindi le ferrovie al 15%, quindi è una finta che comanderanno, e altro 15% altre due società pubbliche. Chi sono le società pubbliche? Le poste? Chi sono le altre due società pubbliche? Un'altra cosa fantastica. Terza cosa che metteranno nelle ferrovie e metteranno nell'Italia è Delta, che è una società americana, ci sta pure, che fa lungo raggio, e EasyJet. Allora, io dico, io non capisco niente, ma sono una persona che cerca di ragionare, cioè tu metti nella stessa compagine nazionale le ferrovie che vogliono che tu Roma-Milano lo faccia coi treni, due società pubbliche che non gliene fotterà nulla, che saranno soldi nostri, il Tesoro che metterà i suoi soldi sempre nostri, poi metti Delta che vuole portare le persone in America e che è una società normale, e poi metti EasyJet che invece è una società low cost, che ha tutti altri obiettivi rispetto all'Italia. A me mi sembra una cosa che a buon senso è una cagata pazzesca, ma vabbè. Vedremo come andrà a finire. Un gran casino, come dice François. Io vi do appuntamento, come sempre, sul sito nicolaporro.it per tutte le notizie della giornata, e noi ci vediamo ovviamente domani con la stessa zuppa di oro. Ciao!